Joe Biden è in Asia per costruire un asse anticinese e si è lasciato sfuggire una dichiarazione su Taiwan che ha lasciato tutti abbastanza di stucco. Intanto il costo del grano continua a salire non solo per via della guerra ma anche per la speculazione finanziaria. Ma non potremmo farci qualcosa. E in Australia si sta formando un governo invece che potrebbe portare interessanti novità sul tema del cambiamento climatico. Ah c'è anche un nuovo capitolo dell'appassionante saga della tassonomia verde europea. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 24 maggio 2022 e questo è uno mi rassegno, la rassegna stampa commentata, di Italia che cambia. Sigla! Per alleggerire la tensione a livello internazionale Joe Biden sta facendo un tour in Asia, sono ironico, premetto, nell'area Indo-Pacifica per stringere quello che molti analisti hanno definito un accordo anticinese col Giappone e altri stati. Ieri era a Tokyo dove ha incontrato Narukito che è l'imperatore giapponese e il premier Fumio Kishida in quella che è stata la seconda tappa del suo viaggio. Viaggio che è teso all'obiettivo di creare o per meglio dire di ufficializzare la cosiddetta Indo-Pacific Economic Framework. Che roba è l'Indo-Pacific Economic Framework è un piano di investimenti e di rafforzamento dei rapporti commerciali che, a detta dei contraenti, farà aumentare la presenza di Washington nell'area e getterà le basi del collegamento frassimili nell'ottica del contenimento della Cina appunto nell'area dell'Indo-Pacifica. L'accordo prevede una stretta collaborazione su questioni strategiche che vanno dalla supply chain, quindi la catena di produzione e distribuzione, agli standard per un'economia digitale fino alle infrastrutture. Oltre a Giappone aderisce la Corea del Sud e altre dieci nazioni, diciamo chiamiamole minori, insomma più piccole come ne avevo tanti con economie più piccole. Mentre non c'è Taiwan per ovvie ragioni, sebbene sia un attore chiave per l'industria dei microchip. Almeno per ora non c'è Taiwan tra l'altro, questo si è detto fra le righe durante le varie conferenze stampe. Comunque non si tratta solo di un accordo economico perché come dicevamo c'è una forte funzione appunto di contenimento della Cina. Scrive l'Huffington Post che la sicurezza regionale è l'agenda principale degli incontri di Biden a Tokyo. Come riferisce una nota della Casa Bianca dopo l'incontro, i presidenti si sono impegnati a lavorare in stretta collaborazione per affrontare le sfide della sicurezza, fra cui i programmi nucleari e balistici della Corea del Nord e il comportamento coercitivo della Cina sempre più in contrasto con il diritto internazionale. Gli Stati Uniti hanno anche annunciato questo piano con molta enfasi devo dire perché hanno parlato dell'accordo economico del ventunesimo secolo, insomma c'è stata molta enfasi forse anche più di quello che poi è effettivamente l'accordo in sé. Mentre Pechino ha commentato in maniera molto più critica cercando di ridimensionare il tutto e parlando di piccole cricche che si uniscono sotto la bandiera della libertà e dell'apertura ma che in realtà hanno il solo scopo di contrastare la Cina e che sono destinate a fallire. Comunque il fatto che sia un accordo contenitivo della Cina non è un gran segreto nel senso che lo stesso Biden è stato, lo ha detto in conferenza stampa, ha detto la nuova piattaforma economica sarà introdotta per ostacolare l'espansionismo della Cina e porterà numerosi vantaggi per l'intera regione, quindi insomma non è neanche un non detto, è proprio dichiarato che si tratta di una misura in buona parte anticinese. Ad ogni modo la vera notizia del tour asiatico di Biden è un'altra perché col suo solito stile un po' come lo aveva definito Scanzi, Andrea Scanzi un po' di tempo fa, da zio anziano e un po' rincoglionito che non sa bene quello che dice, forse non era proprio così la citazione ma rendeva abbastanza l'idea devo dire, ha detto in conferenza stampa, ha sparato una cosa enorme al punto da lasciare sbalorditi un po' tutti, cioè vi spiego com'è andata, c'è una giornalista, c'è il video anche, lo potete vedere tranquillamente su internet, anzi ve lo lascio fra le fonti e articoli in fondo alla pagina rassegna stampa di talecambio.org, c'è una giornalista che gli chiede, gli dice non avete voluto immischiarvi nel conflitto ucraino per ovvie ragioni, anche qui in realtà ci sarebbe un po' da discuterne ma prendiamolo, non è questo il punto insomma, ma sareste disponibili ad essere coinvolti militarmente per difendere Taiwan nel caso succedesse una cosa simile? E Biden così senza battere ciglia ha risposto sì, il che è appunto una roba grossa perché è un cambio di strategia epocale, come scrive il post da molti anni nei confronti di Taiwan gli Stati Uniti hanno sempre seguito un approccio chiamato di ambiguità strategica, che vuol dire? Vuol dire che non hanno mai specificato cosa avrebbero fatto in caso di invasione della Cina di Taiwan per evitare le proprie tensioni col governo cinese, hanno sempre detto che era un'ipotesi che non era gradita, è ovvio che gli Stati Uniti hanno sempre cercato di arginare un'ipotesi del genere, ma non hanno mai detto che sarebbero scesi in campo militarmente e anche perché un eventuale intervento armato dagli Stati Uniti a fianco di Taiwan significherebbe di fatto che Stati Uniti e Cina si troverebbero in guerra uno contro l'altro, quindi le due maggiori potenze mondiali che aprono una guerra di fatto. E anche per questo appunto la risposta di Biden è stata accolta con incredulità e sorpresa da molti osservatori, a society press l'ha definita una delle dichiarazioni più potenti ed esplicite da decenni in favore di Taiwan, pensiamo c'è appena stato presidente Trump che insomma ne faceva disparate contro la Cina, ma questa le supera probabilmente tutte. Ora possiamo ragionare sul fatto che sia o meno una strategia sensata quella americana, però la mia sensazione vedendo il video, ditemi anche voi cosa ne pensate, è assurdo, non lo so, spero anche di sbagliarmi su questo, è che la risposta di Biden non sia neanche il frutto di un cambio di strategia voluto e concordato, ma quasi una dichiarazione estemporanea, a fronte di una domanda secca, così, l'ha sparata senza pensarci due volte. E lo so, è poco plausibile essendo il presidente degli Stati Uniti, però un po' la sensazione che Biden faccia di queste robe, come quando aveva definito Putin un macellaio, c'è. E la cosa non fa esattamente ben sperare, però non lo so, magari mi sbaglio, probabilmente mi sbaglio, devo dire la verità. Ok, nel frattempo è iniziato il World Economic Forum a Davos e i giornali ne parlano soprattutto per il discorso di Zelensky, a cui ha fatto seguito una standing ovation dei presenti, tranne la delegazione cinesi che è rimasta invece seduta. Ne parleremo anche noi nei prossimi giorni, magari spieghiamo meglio qual è l'agenda di queste giornate a Davos, di che cosa discuteranno appunto i leader economici della terra. Detto ciò però, oggi prendo spunto da questa occasione perché, per parlare di un report che è stato presentato proprio a Davos da Coldiretti, sul prezzo del grano, da cui si evincono due cose interessanti. Interessanti si fa per dire. La prima è che c'è, lo sapevamo ma adesso numeri alla mano, possiamo dire che c'è stato un aumento enorme del prezzo del grano. Dice Coldiretti nel report che a tre mesi dall'inizio la guerra è già costata oltre 90 miliardi di dollari a livello globale solo per l'aumento dei prezzi del grano che sono balzati del 36%, con effetti a cascata che si sono fatti sentire su tutti i prodotti alimentari, perché ovviamente il grano è alla base della, non credo si dica a cascata in alimentare, ma è usato per fare molti prodotti alimentari, dal pane alla pasta, tantissime altre cose. Questo determina, si continua a leggere nel report, una situazione che nei paesi ricchi ha generato inflazione, ma in quelli poveri genera carestia e rischi di rivolte con ben 53 paesi a rischio alimentare secondo le Nazioni Unite. E il secondo punto, altrettanto problematico, è che c'è un sacco di gente che sta guadagnando da questa cosa, cioè c'è una speculazione sulla fame che avviene a livello finanziario e un sacco di soldi dei mercati finanziari si sono spostati da prodotti più volatili, azioni di aziende e così via, a beni di prima necessità, che possono essere metalli preziosi e oro che ovviamente non sono beni di prima necessità, ma sono famosi beni rifugio, ma anche appunto i prodotti agricoli dove le quotazioni, le cui quotazioni dipendono sempre meno dall'andamento reale della domanda e dell'offerta, che sicuramente hanno innescato questa serie di dinamiche, ma poi le dinamiche hanno, come sempre la finanza funziona da amplificatore dei problemi, e quindi dipendono invece sempre più dai movimenti finanziari e dalle strategie di mercato che, ad esempio, trovano nei contratti derivati future alcuni degli aspetti più problematici. Quindi all'effetto della guerra si sommano gli effetti della finanza speculativa. E mi chiedo, è una riflessione che lancio così un po' nel mucchio, ma se siamo disposti a prendere misure straordinarie contro Putin, ad esempio bloccando il protocollo SWIFT e facendo cose di questo genere, perché non facciamo lo stesso a livello finanziario? Cioè perché non blocchiamo, non vietiamo ad esempio i futures o altri prodotti derivati speculativi sui beni di prima necessità che possono compromettere il benessere e anche la vita di milioni di persone che appunto poi si trovano di fronte a carestie che vengono peggiorate dalla mancanza di cibo e non solo quello prodotto da loro ma quello appunto che riescono a riperire sul mercato e questa cosa ovviamente ha degli effetti a cascata enormi sul mondo, sulle persone, sulle società, eccetera. E quindi, non lo so, mi viene da pensare che forse potremmo farla questa cosa, non l'ho mai sentita questa proposta e mi chiedo come mai. Forse me la sono persa io, se qualcuno l'ha già fatta segnalatmelo perché mi interesserebbe capire cosa si muove da quel punto di vista. Ok, torniamo a parlare di quella che è la saga più accattivante degli ultimi mesi, perlomeno dalla fine di Game of Thrones, ovvero la tassonomia verde europea. Vi faccio un riassunto delle puntate precedenti, molto confusionario perché sono tanti tantissime. Comunque, che cos'è la tassonomia verde europea? Praticamente la Commissione Ambiente del Parlamento Europeo aveva proposto, parliamo di diversi mesi fa, una classificazione delle fonti energetiche chiamata tassonomia verde che doveva semplicemente definire quali fossero le energie che potevano considerarsi verdi. Ora, sembra una definizione abbastanza semplice e scontata, infatti all'inizio la Commissione aveva compreso all'interno di questa tassonomia solo le fonti energetiche rinnovabili. Una definizione però in Europa, in ambito europeo, non è una cosa da poco, perché dalle definizioni poi dipendono a cascata gli investimenti, un sacco di soldi, parliamo di miliardi di euro che possono essere o non essere utilizzati verso una fonte e quindi succede che i vari paesi che fanno parte dell'Unione Europea iniziano a farsi delle domande e interviene la Francia che dice perché non inseriamo anche il nucleare e il gas e diciamo che sono verdi? Macron, in questo caso, sperava così di poter finanziare con i fondi europei le nuove centrali e la manutenzione delle vecchie centrali che stanno avendo un sacco di problemi in Francia, nucleari, e aveva inserito anche il gas per ampliare il consenso alla proposta anche a paesi che sono molto dipendenti dal gas come l'Italia, la Germania e altri paesi europei. E infatti sembra che il nostro paese abbia preso la cosa abbastanza bene, perlomeno a quanto riportato dal report, tant'è che avrebbe sotto banco, dichiarandosi neutrale, ma sotto banco avrebbe caldeggiato fortemente la proposta francese. Ovvio che nucleare e gas però non dovrebbero starci là dentro perché non sono fonti verdi, nessuna delle due. E qui inizia quindi una sorta di fantasmagorico waltzer dei vari governi con passi avanti, passi indietro, cambi di posizione repentina, soprattutto la Germania fa una serie di mosse abbastanza assurde per cui prima si dice favorevole, poi contraria, poi favorevole, poi contraria. In tutto ciò a un certo punto interviene anche la Bay, la banca degli investimenti europea, che dice che comunque lei non finanzierà le fonti che non siano veramente rinnovabili perché questa cosa non dipende neanche dalla volontà degli stati ma dipende anche dalle linee guida che si è data la banca degli investimenti stessa. Insomma, tutte queste cose. Arriviamo al punto di oggi in cui fino a ieri non si capiva molto di come sarebbe andata a finire e devo dire che oggi non ci si capisce molto di più, ma ci sono due novità interessanti. La prima è che sabato scorso, 21 maggio, c'è stato un enorme flash mob di proteste in tante città europee organizzato da ben 27 organizzazioni, fra cui Fridays for Future, Greenpeace, WWF, Legambiente, Ultima Generazione e tante altre, con la richiesta di depennare nucleare e gas dalla tassonomia. La seconda è che la Germania sembra aver scelto, si spera definitivamente una sua posizione all'interno di questa sorta di contenzioso e voterà contro il regolamento europeo che classifica nucleare e gas come attività sostenibili perché nello specifico è contraria al nucleare. Lo ha detto qualche giorno fa un portavoce del ministro dell'ambiente del governo di Berlino quando la presidenza francese della Commissione ha chiesto alla rappresentanza quali fossero le loro intenzioni di voto. Questa dichiarazione sembra in grado di far cadere quel equilibrio sottile fra interessi per cui alla fine fra le nazioni che si basano sul nucleare e quelle che si basano sul gas si è raggiunta questa sorta di compromesso che faceva storcere il naso a tutti ma andava un po' bene a tutti e quindi adesso si apre la possibilità concreta e interessante che questo accordo così come ora venga bocciato e che quindi nucleare e gas non finiscano nella tassonomia verde europea. Vediamo perché sia gli stati che il loro Parlamento hanno tempo fino a luglio per decidere possono succedere ancora miliardi di cose e probabilmente si scoprirà che Macron è il padre di Scholz o viceversa ma ecco sicuramente è una cosa che continuerà a tenerci col fiato sospeso quindi mi raccomando noi ci continuiamo ad aggiornare voi non perdetevi le puntate di nome d'assegno. Intanto ultima notizia ci sono state le elezioni politiche in Australia per la formazione del nuovo governo e un articolo su The Conversation tradotto su internazionale le ha definite la migliore occasione per l'Australia. Come mai tutta questa enfasi? Perché oltre alla più o meno annunciata vittoria laburista che si è effettivamente concretizzata c'è stato uno storico risultato delle forze ecologiste quindi i Verdi e il Partito degli Indipendenti che in Australia sono soprannominati Partito Verde Acqua perché uniscono una politica fiscale molto conservatrice e un programma però molto attento alla crisi climatica appunto hanno avuto un hanno conquistato un sacco di seggi e questo significa che il nuovo governo laburista che si pensava dovesse mediare sulle questioni climatiche al ribasso con la controparte conservatrice dovrà invece probabilmente affrontare una sfida sul clima diverso e quindi anziché fare concessioni agli storici rivali dovrà invece fare mediare verso l'alto cercando un accordo appunto con queste due forze e adottando politiche climatiche probabilmente molto più ambiziosi. I prossimi tre anni dice l'articolo saranno molto difficili sia dal punto di vista economico sia da quello politico ma la svolta sancita dalle elezioni ha aperto la strada verso un cambiamento altrettanto radicale nella politica climatica. Noi vedremo cosa succede ma ecco si aprono scenari interessanti per quanto riguarda l'Australia e le politiche sul clima. Stiamo a vedere fiduciosi. Va bene io direi che ho chiacchierato abbastanza io vi saluto vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di No Mi Rassegno sempre a partire dalle 8 sui canali youtube, speaker e spotify di Italia e Cambia anche sulla pagina di Rassegna Stampa di www.italicambia.org e come un giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto